Donne vittime del lavoro o quali sono le politiche da mettere in atto? Le politiche sono innanzitutto quello di sensibilizzare dentro i luoghi di lavoro le istituzioni il fatto che c'è uno specifico di intervento da mettere in campo per affrontare appunto gli infortuni delle donne sul lavoro. Perché? Intanto perché le donne fanno un doppio lavoro e quindi ci sono anche tipologie di impatto negativo per gli incidenti sui luoghi di lavoro che corrispondono per esempio a maggiore stress, ad affaticamento doppio su questo. Quindi la prima politica secondo me rimane sempre quella della determinare politica di conciliazione tra vita privata e vita di lavoro, quindi una condivisione dentro la famiglia ma anche nelle politiche del lavoro per favorire questo perché io credo che questo sia il primo elemento. Il secondo elemento è che bisogna avere una ricerca specifica. Io insisto da anni su questo, sul fatto di rendere effettivo quello che una delle ultime leggi sulla sicurezza nel lavoro aveva introdotto, cioè quello di affrontare anche ricerche sull'impatto di genere per la sicurezza sul lavoro che significa anche indagare meglio cosa significa per una donna lavorare. Insomma io credo che i due elementi siano proprio questi, superare la neutralità nel guardare la sicurezza sui posti di lavoro e del primo elemento anche di formazione di chi ha queste responsabilità e politiche di merito, diciamo così, su cui bisogna intervenire.